Emergenze ambientali e prospettive di sviluppo per l'intera regione Basilicata. Questi i temi toccatieri a laurea da Vito di Lascio, ospitato dalla cittadina del Beato Lentini, nel corso della sua campagna elettorale. La giornata del voto è sempre più vicina. Il 17 e 18 novembre gli elettori della Basilicata dovranno scegliere il nuovo governatore. Vito di Lascio e il PDL lo hanno già fatto. E Tito Di Maggio, con lui, ha detto il candidato alla carica di consigliere, anche l'area sud avrà le giuste attenzioni dalla politica. Ripartire dal territorio, mettere al centro l'area sud, i territori più periferici della Basilicata, che devono assurgere a priorità nell'agenda del governo regionale della decima legislatura. Io sto girando le piazze della Basilicata, convincendo le persone sui temi, sui temi della nuova pubblica amministrazione, che deve essere snella, efficiente, a burocrazia zero, sui temi dell'ambiente, che devono essere una priorità dell'azione tanto della maggioranza quanto della minoranza in consiglio regionale. E poi sui temi del rinnovamento. A salutare l'arrivo di Vito di Lascio a Lauria, al coordinatore provinciale a potenza del Partito Azzurro, Mariano Pici. La nostra è la coalizione giusta per far ripartire l'area sud della Basilicata, ha dichiarato Pici. Chi ha fatto parte del sistema di governo non può dare garanzia a questi territori. La difesa dell'area sud, dove un ritardo c'è nella sanità, un ritardo nello sviluppo, nelle infrastrutture. Certo, sembra paradossale, ma il candidato presidente alternativo dovrebbe essere l'uscente consigliere ex assessore Marcello Pittella, il quale fa parte naturalmente del sistema, ha condotto una campagna dei primari controopponentesi al sistema, ma poi alla fine, ahimè, delusione, fa parte del sistema integrante e corresponsabile del mancato sviluppo di quest'area. Quindi io credo che noi abbiamo messo sul tavolo un'alternativa, che i Lucani dovranno decidere il 17 e il 18 novembre.